Bella Influencer Campana è stata la protagonista di un servizio di Striscia la Notizia dedicato alla crisi degli influencer. Ma cosa è successo? Hanno introdotto il servizio dicendo che dopo la vicenda di Chiara Ferragni il ruolo degli influencer è in crisi e addirittura gli effetti di ciò si fanno sentire e giù gaff e figuracce. Tra queste influencer naturalmente c'erano le gaff di Perla Batiero ma anche di altre. Insomma non è la prima volta che la ragazza si è resa protagonista di alcune gaff ma è sicuramente la prima volta che la vediamo nella tv di Satyga e tutto ciò ha fatto un po' sorridere. Tanti naturalmente hanno difeso Perla dicendo che lei è così. Ed è proprio questo che la rende ancora più bella e unica. E voi come la pensate?